Dal 26 aprile al 12 maggio si terrà Art in Vita al Festival Internazionale delle Abruzzi. Qual è il programma? Ok, comincia con una mostra di caricature fatte da aprire le fotografie di vecchietti, delle Abruzzi, dopo ci sta un'installazione nella strada di queste fotografie, dopo ci sta il 26 l'apertura con un concerto di tango balcanico, di artisti che vengono un po' di tutti i Balcani e della Francia, dopo ci sta Mari a Ortona, che è uno spettacolo di Tino Caspanello con Vittoria Scornamiglio e Luigi Di Fiore, dopo Mari ci stanno tre giorni, la scenografia è visitabile come un'installazione di arte, dopo ci sta una mostra a crecchio che si chiama Il mestiere di vivere, che è ispirato dall'opera di Pavese, sulle mani, le mani del lavoratore delle Abruzzi, su una mostra fotografica, e il primo maggio all'apertura ci sta un concerto di Laurent Petitgon, che è il compositore delle colonne sonore di Wim Wenders, che fa un concerto a posto per questa mostra, dopodiché, questa mostra rimane tutto il tempo, dopodiché ci sta cinema, dunque un primo cinema che Juliette Binoche sceglie per questo festival della sua carriera, e un secondo è il film sul Papa Francesco, con la presenza del compositore che ha fatto le colonne sonore, dopo ci sta un festival di cortometraggi dei Balcani, dove i bambini da 12 a 18 anni saranno alla giuria, dopodiché ci sta la creazione che facciamo, che è una madre. La madrina del festival l'ho scelta come madrina veramente perché è una grande artista, e che è un'artista che è pittrice, danzatrice, attrice, e che mi faccia piacere di avere una madrina che c'è via tutte le arti in lei. Podar si viene quest'anno, non lo so ancora, c'è qualche problema personale, e in più sta il festival di Cannes dopo, ma vorrei farla venire, per esempio, facendo un'esposizione della sua pittura. Quello mi farebbe a Crecchio fare un'esposizione di Juliette Binoche con i suoi quadri che sono magnifiche, che nessuno conosce.